Il simulacro del Redentore, la statua presente all'interno della cattedrale Santa Maria Lanova, ha salutato la città ancora una volta, ammirato dai fedeli che hanno preso parte e assistito alla processione. Il corteo accompagnato dalle note suonate dalla banda musicale ha ripercorso alcune vie del centro storico in occasione della festa del Redentore il 6 agosto, attraversando Corso Vittorio Emanuele, Via Red Italia e Corso Umberto per poi rientrare in cattedrale. I fedeli hanno avuto la possibilità dunque di celebrare il Redentore sia sul monte San Giuliano, proprio a piedi del monumento, a lui dedicato dove sono state celebrate le sante messe e poi la serata si è conclusa con un concerto che in piazza con la processione, un momento di devozione iniziato dopo la Santa Messa delle ore 19. Grazie a tutti!